Presidente Ardizi, cosa risponde a Farinetti che ha parlato di un Abruzzo immobile a livello imprenditoriale? Perché non conosce l'Abruzzo. Un piccolo poi diventato grande imprenditore, però di quello che facciamo noi, di quello che abbiamo fatto noi, ma anche delle nostre specialità. Io non so chi ha detto che il Trentino esporta un miliardo di mele, qualcosa del genere, ma ogni regione ha le sue peculiarità. Noi esportiamo pasta, vino, male di prodotti della Marsica. No, non ci può insegnare niente a nessuno. Presidente, a proposito di nuova amministrazione, c'è una nuova amministrazione anche a Pescara, c'è questo problema di Corso Vittorio. Qual è il suo auspicio? Il mio auspicio è che non dovevano fare questa stupidaggine che hanno fatta, c'è una sentenza del tale che andrebbe rispettata, però mi rendo conto da cittadino responsabile che oggi dire demoliamo tutto è quasi una follia. Demoliamo quelle cose che si possono demolire, che mettono in sicurezza, ma che riaprono. Vedete, il Corso Vittorio Emanuele è più importante, è il Corso d'Abruzzo, non di Pescara. L'abbiamo fatto diventare una specie di giardino, ma i giardini si fanno ai giardini, non nelle vie più importanti di Abruzzo. Io spero che adesso, mettendo in sicurezza, togliendo qualche cosa, si possa riaprire e tra l'altro consentire il passaggio, il carico e scarico, ma di tutti i mezzi, non solo dei taxi e degli autobus.